Siamo qui in Ispettoria, tra l'Ispettoria Salesiana INE di Mestre, nel complesso Salesiano di Venezia, mentre si sta svolgendo l'incontro del DICS Europa Mediterranea, l'insieme dei delegati ispettoriali dell'Europa, uniti per parlare di comunicazione e per presentare il volume Salesiani e la Rete. Andiamo a conoscere adesso alcuni delegati. Sono Don Marco Salesiano dell'Ispettoria Lombardo-Emiliana, incaricato della comunicazione sociale da un paio d'anni. Sono Don Gianluigi Pussino, delegato della comunicazione sociale nella circoscrizione salesiana Italia Centrale. Il delegato ispettoriale della comunicazione sociale è la Ispettoria Maria Auxiliatrice, Maria Auxiliadora, di Sevilla, Spagna. Sono Rui Alberto, salesiano dal Portogallo, abito a Porto, sono delegato di comunicazione sociale per Portogallo e Capo Verde. Mi chiamo Don Rastislau, sono dalla Slovacchia, sono salesiano sacerdote, delegato per la comunicazione sociale. Giuse Glass, di provincia Belgian Nord. Sono delegato per la comunicazione sociale, ma prima di tutto, sono direttore del formazione house in Louvain. C'è una comunità e c'è anche l'office per la comunicazione sociale. Delegato per la comunicazione sociale, sono direttore della comunicazione sociale. Mi chiamo Libor, da C'è Repubblica, delegato per la comunicazione sociale. Mi chiamo Libor, da C'è Repubblica, delegato per la comunicazione sociale e comunicazione ispettoriale. Ecco alcune delle nostre interviste. Coscienti le diverse realtà locali che sono ampiamente presenti nell'ambito digitale, renderli coscienti del valore che ha questa presenza. Abbiamo un certo bisogno di più collegamento tra gli operatori salesiani, che sia dare alla gente più competenza, non soltanto tecnologica, ma anche comunicativa, progettuale. Stiamo lavorando soprattutto in questo momento sulla ricerca e la ricerca dei collegamenti che ci sono tra l'ambito educativo e l'ambito dei social. Tutto il mondo dello storytelling, che cambia il modo di fare la storia, di pensare la storia, ma ci ricorda anche che noi cresciamo come uomini attraverso le storie, che poi è quello che ha fatto Don Bosco, che ogni sera nella Buonanotte raccontava delle storie, dei sogni ed era uno strumento importantissimo. Per i giovani, come programma educativo, abbiamo un corso educativo che si chiama Scuola Mediale, che sono quattro corsi, quattro weekend in due anni. Uno dei giovani del nostro servizio è di creare una comunità, una comunità tra le sorelle, la famiglia di Salesiano e i giovani. In questi giorni non sono mancate neanche le uscite legite a scopo culturale e con i Salesiani siamo andati in visita alla città di Venezia e di Padova. Grazie.